Sindaco, c'è un altro tema di stretta attualità che riguarda anche l'isola di Procida, mi riferisco al bradisismo, la forte scossa anche di lunedì sera del 20 maggio si è sentita anche sull'isola, così come la scossa del mattino successivo, lei ha chiuso anche le scuole. Sì, chiaramente il movimento che c'è nel golfo di Pozzuoli, più o meno vicino Bacoli, vicino Pozzuoli a seconda degli eventi ci coinvolge perché tutto sommato terra murata è veramente molto vicina a quest'area di cui stiamo parlando e quindi risente la zona storica, la marina pure, la coricella che sono le aree più vicine ai campi flegrei risentono di queste scosse. Quindi anche noi isolani sentiamo muoversi il terreno sotto i piedi. In modo particolare questi eventi comunque ci impongono di essere attenti a tutte le strutture pubbliche, quindi le scuole in modo particolare. L'altro giorno abbiamo avuto l'esigenza di allontanare gli studenti, nel frattempo abbiamo fatto una serie di controlli che hanno dato un esito rassicurante e poi queste scosse di terremoto comunque costituiscono un rischio, un pericolo anche per i nostri costumi e quindi vanno ancora monitorati e dove è possibile bisogna intervenire con i finanziamenti dello Stato. I tecnici e la protezione civile regionale stanno già avviando un monitoraggio degli edifici pubblici e privati per quanto riguarda Bacoli, Pozzuoli e l'area di Bagnoli di Napoli coinvolta. Lei richiede la stessa cosa anche per l'isola di Giprocida? No, noi non abbiamo questo genere di emergenza, tra l'altro chiaramente siamo sempre attenti a quello che accade dopo, ogni scossa non è abbastanza intensa fino adesso, facendo tutti gli scongiuri del caso, le scosse non sono state abbastanza intense da creare dei problemi alle nostre strutture. Come dicevo, sia le strutture pubbliche sono state controllate e sono ok, anche le strutture private non hanno subito particolari lesioni o problemi da queste scosse. Quindi oggettivamente non siamo nell'area rossa, questo perché la nostra storia è una storia geologica differente, è una storia durante la quale non sono accaduti particolari eventi sismici, sempre facendo tutti gli scongiuri del caso. Da un punto di vista scientifico le evidenze e gli approfondimenti che hanno fatto non ci vedono coinvolti, poi se dovesse cambiare lo scenario siamo sul pezzo, stiamo seguendo questa grave difficoltà dei nostri amici flegrei, per cui se la cosa dovesse evolvere in una maniera rischiosa per Procida chiaramente chiederemo poi tutti gli aiuti necessari. Ma per adesso sento di rassicurare la mia comunità, d'altronde i procidani stessi la stanno vivendo in prima persona e si accorgono di sentire queste scosse, ma che queste scosse chiaramente non sono tanto intense da costituire al momento un rischio per la pubblica incolumità.